Gli alberi che insistevano nel piazzo Umberto I a Gera non ci sono più. Sono stati rimossi dopo tantissimi anni e sono stati ricollocati in altre aree della città, compresa quella di Montelungo. Adesso, così come dimostrano le immagini, si stanno eseguendo i lavori di pavimentazione. Ma obiettivo dell'archeocleba preseduta in città da Nuccio Mulè è quello di togliere la statua della Dea Cerere e di collocare il busto di Umberto I, che attualmente si trova nella villa comunale Garibaldi. Ripristinare il tutto come era prima. Il discorso è molto semplice, anche perché come archiocleba noi abbiamo recepito numerosissime istanze da 20 anni a questa parte e anche di più. Pertanto non abbiamo fatto altro che assolvere il raccompito che può assolvere un'associazione di volontariato. Capire come la pensano i cittadini e portare avanti un discorso che è il discorso dei cittadini. E siccome si trattava, soprattutto in questi ultimi tempi, si è recepito finalmente il problema igienico-sanitario, a parte il decoro pubblico, bene, allora l'archiocleba ha portato avanti tutta una serie di istanze che sono state recepite dall'amministrazione comunale Grillina. perché per un paese normale andare a togliere questi alberi poteva essere una cosa semplicissima e normalissima. Per Gela diventa una cosa epocale. E ora perché la sostituzione della Dea Cerere? Allora, innanzitutto è errato chiamarla Cerere per il semplice fatto che quella statua è stata donata a Salvatore Aldisio, anzi è stata commissionata per fare un dono a Salvatore Aldisio. Salvatore Aldisio ha pensato bene allora di donarla alla città, però di Cerere non ha niente perché la Cerere o la Demetra greca non sono con questa iconografia, sono delle matrone, hanno una spiga in mano, un canestro di prodotti della terra. Quindi, come direbbe un politico, che ci azzecca questa statua nuda con Cerere? E poi ovviamente bisognava giustificare questa statua e si introdusse il nome di Demetra o Cerere che sia. E ora a chi spetta l'ultima parola? Quel monumento a Umberto I è stato il primo in Italia ad essere realizzato con il contributo dei cittadini, dei terranovesi allora. Quindi abbiamo noi una primizia di aver fatto un busto nei confronti del regime sabaudo. Però il problema non è sabaudo, oggi diremmo istituzione della Repubblica. Il problema è la dedizione dei terranovesi per allora l'istituzione sabauda. Se fosse stata adesso sarebbe stata l'istituzione repubblicana. Quindi è un monumento che deve ritornare.